E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video della domenica dove come ogni domenica vi riassumerò tutte le novità più interessanti che sono accaduti negli ultimi 7 giorni nel mondo della tecnologia assieme al mio grande amico nonché collega Simone Russo, trovate il link del suo video qui in descrizione oppure nella scheda in alto. E anche questa volta mi tocca fare una puntata monotematica ma importante principalmente per due motivi stiamo entrando nella settimana della WWDC 2017 conferenza annuale in cui vedremo tante novità alle quali Apple sta lavorando per un anno intero e inoltre negli ultimi giorni stanno trapelando moltissimi nuovi rumors e leak sul nuovo iPhone 8 o iPhone Edition chiamatelo come volete quindi di cose da parlare ce ne sono veramente tante io direi di non perdere altro tempo e iniziare subito. Inizieremo col parlare di tutte le novità che riguardano l'iPhone 8 e successivamente vi darò qualche piccola anticipazione di quello che secondo me potremo vedere domani alla WWDC che ricordo verrà mandata in streaming alle 19 ora italiana sul sito apple.com slash live. Ma tornando all'iPhone 8 ormai è stato praticamente confermato il suo design ci sono stati troppi leak troppe foto di custodie foto dei mockup foto delle schematiche che possono affermare con certezza che il suo aspetto sarà più o meno questo. E molto spesso mi capita di vedere alcuni di voi che mi scrivono su Instagram chiedendomi se una particolare foto dell'iPhone 8 è reale o falsa oppure vedo molti account decretare una foto fasulla semplicemente perché non gli piace. Secondo me non è tanto importante il fatto che una singola immagine sia fake o reale quello che conta è che ormai tutte le voci tutti i rumor tutti i leak bene o male puntano tutti in quella direzione e questa sorta di uniformità ci dà la conferma sul design finale dell'iPhone 8. Tenete conto che un anno fa cioè esattamente a giugno del 2016 sapevamo esattamente come sarebbe stato l'iPhone 7 e 7 Plus ed effettivamente poi è stato così. Certo adesso è un po' più complicato perché con l'iPhone 8 si ha un cambio radicale del design ma i dettagli li scopriremo durante la presentazione ufficiale adesso dobbiamo semplicemente farci un'idea di come sarà a grandi linee. E iniziando a scoprirlo un po' più nel dettaglio sembra che TSMC l'azienda che storicamente ha prodotto alcuni processori per i telefoni di Apple abbia indirettamente confermato che la stessa Apple sia riuscita a risolvere i problemi che le impedivano di integrare il sensore di impronte digitali all'interno del vetro dello schermo dell'iPhone 8. Dunque il sensore Touch ID integrato direttamente nel pannello frontale è una cosa che potrebbe accadere. Se ci fosse abbastanza tempo per implementarla tutti i rumor che prevedevano la cella e il lettore di impronte digitali sul retro potranno essere smentiti perché si scansionerà la propria impronta semplicemente toccando il vetro dello schermo davanti. E io spero vivamente che sia così perché si tratterebbe veramente di una svolta. E poi trappelata una scansione di quelli che dovrebbero essere gli interni di questo smartphone e quella che si vede chiareton dal centro è la placca per la ricarica wireless, altra funzione che ormai sembra essere praticamente confermata. E parlando della fotocamera ormai è definitivo anche il design verticale che però sta migliorando nel corso dei mesi. Infatti è molto probabile che le due fotocamere vengano divise dal flash la cui posizione sarà appunto in mezzo. Spero che questa scelta non causi troppi problemi dovuta alla troppa distanza tra una lente e l'altra ma riconosco che è il modo meno brutto di implementare una fotocamera verticale. E ora che abbiamo finito con il retro possiamo concentrarci sul davanti ed è qui che ci sono i rumor più interessanti. Ormai è certo che questo nuovo iPhone 8 avrà le cornici ridotte al minimo e intendo molto molto più del Galaxy S8. Niente tasto home, niente bordi laterali ma soprattutto niente striscia superiore. Sembra infatti che lo schermo verrà posto sotto lo speaker e la doppia fotocamera frontale ma che tuttavia si estenderà comunque ai lati di queste ultime. Adesso ve lo faccio vedere in foto così capirete meglio. Questo peraltro ci porta anche a pensare che l'aspect ratio verrà modificato dagli ex classici 16.9 ai nuovi classici 18.5.9 molto simile a quello dell'S8 o dell'LG G6. E a questo proposito volevo discutere un attimo con voi di questa parte alta perché non lo so c'è qualcosa che non mi torna. Ok Apple lascerà che la fotocamera e lo speaker si sovrappongano allo schermo ma questa striscia e questa striscia mi sembra improbabile che le lasci proprio modificabili dall'utente e dal sistema operativo. E qui mi viene in aiuto il concept realizzato da un utente molto più intelligente che vedrebbe lo sfondo fermarsi più in basso rispetto a quella striscia con i bordi arrotondati per dare un senso di continuità e ai lati dello speaker e delle fotocamere invece inserire una doppia barra di stato di tinta nera contenente informazioni sulla batteria e sul gestore come abbiamo sempre visto del resto. Non lo so ragazzi voi tra le due versioni quale preferite? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. E l'ultimo rumor che ho da proporvi per l'iPhone 8 è che potrebbe essere proprio l'unico iPhone che vedremo quest'anno in occasione del decimo anniversario del brand iPhone il che significa che non dovremmo vedere iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Ora questa è un'eventualità che io avevo preso in considerazione sin da subito ma addirittura non credo che l'iPhone 8 avrà l'esclusiva anche perché lì fuori è pieno di persone a cui questo nuovo design non piace. Comporterebbe un cambio troppo brusco. È vero che in questo modo iPhone 7 e iPhone 7 Plus subirebbero una significante diminuzione del prezzo ma non basta c'è bisogno di un iPhone aggiornato da un punto di vista hardware che preservi il classico look di un iPhone. Quello che secondo me è sicuro è che non si chiamerà 7S perché da un lato capisco che quest'anno non se la può cavare solo con il 7S perché già con l'iPhone 7 non ha portato troppa innovazione. Se in più anche quest'anno non innova qualcosa non fa qualche rivoluzione la concorrenza se la mangia in un sol boccone quindi l'iPhone 8 serve. Ma proprio a livello di marketing rilasciare un iPhone 7S e un iPhone 8 con questi nomi non ha senso perché da un punto di vista psicologico proprio il 99% dell'attenzione andrebbe sull'iPhone 8 e nessuno si c***a il 7S. Quindi se ci dovesse essere anche un 7S state sicuri che non si chiamerà così. Uff e queste erano tutte le novità riguardanti i rumors su iPhone 7S, 7S Plus e iPhone Edition aka iPhone 8. Prima di salutarvi però come promesso volevo azzardare qualche anticipazione sulla WWDC e sulle novità di iOS 11 che potremmo vedere domani. E per vincere facile voglio subito partire con tre novità praticamente sicure. Innanzitutto ci sarà un cambio radicale del design, uno di quelli che non vedevamo sin dal 2013 con quello che iOS 7 fece su iOS 6. È da 4 anni quindi che non ne vediamo uno e pare che finalmente sia giunto il momento. Inoltre iOS 11 sarà un sistema operativo esclusivo per i dispositivi a 64 bit e questo significa che tutti i 32 bit che ancora stanno sopravvivendo come l'iPhone 5, l'iPhone 5C, l'iPad 4 e così via si fermeranno per sempre ad iOS 10. E infine la terza novità praticamente certa sarà l'introduzione di tantissimi nuovi emoticons. E il bello è che sappiamo anche quali saranno. Pensate che ci saranno dei dinosauri, nuove bandiere, nuovi cibi, capi d'abbigliamento, persone, creature fantastiche come elfi, maghi, vampiri, c'è addirittura il genio della lampada, nuovi oggetti e ovviamente nuove faccine. Poi, altra novità, come ho già detto in un altro video che non avete visto tutti quindi correte a rimediare, dopo questo video ve lo dovete andare a guardare, ci dovrebbero essere dei miglioramenti per Siri molto significativi sotto due aspetti. In primo luogo Siri dovrebbe acquisire una voce più umana come ha già fatto Cortana o Alexa e in secondo luogo ve l'ho già spiegato dovrebbe diventare ancora più intelligente. Arriverà poi una dark mode, una modalità notturna, anche questa novità praticamente ovvia e aggiungerei io era ora, che potrebbe essere sfruttata dal nuovo display OLED dell'iPhone 8 e in più probabilmente come nuova funzione FaceTime supporterà le videochiamate di gruppo fino a 5 persone. E spero vivamente di vedere questa novità perché la accoglierei molto volentieri. E per concludere dovrebbero essere rifatte da un punto di vista grafico anche le applicazioni stesse, in particolare l'applicazione musica che sin dai tempi di iOS 8.4 quando ha ricevuto l'aggiornamento per introdurre Apple Music è diventata estremamente confusionaria. Non è più facile come prima, quindi spero vivamente che Apple la rifaccia e reintroduca la semplicità che c'era un tempo. Non dimentichiamo inoltre che Apple in concomitanza con questo iOS 11 dovrebbe rilasciare una nuova linea di iPad che ricalcheranno il design dell'iPhone 8 e proprio a questo proposito iOS 11 dovrebbe differenziare un po' di più l'ambiente iPhone dall'ambiente iPad, riuscendo quindi a sfruttare in modo più intelligente il maggiore spazio che si ha a disposizione. Mi viene in mente per esempio mettendo a disposizione un file manager oppure fare in modo che le applicazioni si aprano a mo' di finestra e non tutte a schermo intero come in un sistema desktop. Quindi ragazzi questi erano tutti i rumors e i leaks ricordanti l'iPhone 8, l'iPhone Edition e tutte le novità che sarà più plausibile vedere domani alla WWDC. Fatemi sapere se ne eravate già al corrente, se magari la novità che volete verrà presentata oppure se magari desideravate qualcos'altro. Fatemi sapere se domani riuscirete a guardare la diretta di Apple, io ovviamente non me la perderò e dopo vi porterò tantissimi video a riguardo. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network e link come sempre ve li lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.